Sono le 9, oggi è una giornata bella impegnatina Mamma mia che occhio, bellissima l'allergia alla polvere Ho già iniziato a contattare qualche azienda, guardo lì perché c'è lo schermo per dei creator con cui lavoro Poi ho delle call di allineamento con gli eventuali team Devo smarcare delle task e il pomeriggio si va a registrare con un creator Appena finito di registrare e di fare tutte le call che dovevo fare Adesso si pranza e poi si va a registrare in Duomo Direzione Duomo 20 minuti di ritardo Ho detto che mi sono stato la cosa all'ultima Hai detto a 10 A un quarto Un quarto d'ora di ritardo Hai 5 minuti di ritardo Hai 5 minuti di ritardo Arrivano le 14 e un quarto Prova, prova Altre persone le quali hanno indovinato la canzone il cantante preferito che trovi esclusivamente lì Dopo tutto il giorno a registrare siamo riusciti a finire, addirittura è sera Ma il tuo personaggio era l'ultimo? Io sono distrutto, il personaggio l'ultimo era ricco Oggi sono malamente in coma Sarà complice il fatto che ieri sera abbiamo finito tardissimo di lavorare E quindi è stata bella lunga Però iniziamo con le prime call della giornata E poi vedremo come si svolgerà la giornata Ho finito di fare le task che dovevo fare questa mattina Più le eventuali call Doveva arrivarmi un pacco Risultava in consegna dal sito delle poste Ma indovinate il pacco non è arrivato Questa è la mia mano vuota È stato consegnato con la firma di qualcuno che non so chi sia E vedremo come andrà a finire questa cosa Sono le 8 e 10 Si sta ancora lavorando Ma un'oretta e poi la giornata finisce qua Sono le 10 e mezza Sto facendo delle cose di lavoro così E cerchiamo di organizzarci per uscire oggi pomeriggio O comunque fare un giro Perché è una settimana che sono chiuso fottutamente in casa a lavorare Sono tipo le 2 Sto faticando perché doveva arrivarmi la sedia nuova Perché quella lì fa altamente cagare E quindi ho comprato questa qua Solo che doveva arrivare tipo settimana prossima Invece mi chiama corriere qua sotto E sono andato a prenderla Comunque abbiamo visto la luce del sole Che poi il sole è spuntato adesso perché finora pioveva Però almeno siamo usciti di casa Vediamo per il pomeriggio Finita di montare la sedia Eccola qua E ora spero che sia più comoda di questa Anche se non penso che sia molto difficile Siamo riusciti a completare il lavoro E ora Direzione casa di James Poi non mi ricordavo ma oggi c'è lo sciopero dei mezzi Quindi speriamo di tornare a casa in un orario decente O anzi addirittura speriamo di tornarci a casa Passerò come shorts Raggiunto E ora cerchiamo di risolvere il pomeriggio Fai vedere il mio mouse Vedete le scarpe? Ma no Questa non l'avevo vista neanche io Se l'avevo scappato di casa Io riesco così Perché voglio rimanere umido Grazie mille Ho appena finito con James E sono uscite delle idee Della madonna Che se riusciamo a farle prendere piede Voliamo E ora Metro Già si torna a casa Oggi sarà una giornata all'insegno dello sport Innanzitutto partita femminile Inter-Juve E poi Si va a vedere mia cugina Che gioca in serie A pallavolo Allora la partita è finita Purtroppo è finita 0-0 Adesso sono al lavoro Per fare le grafiche in diretta Della squadra di calcio che seguo E poi si va a vedere mia cugina Che gioca pallavolo In questo momento sono estremamente di corsa Perché Sto facendo a piedi da casa mia All'Alliance Cloud Dove gioca mia cugina Ma la partita che stavo seguendo Per le grafiche da social Sta andando avanti Quindi sto correndo Per arrivare là in tempo Così se serve Tiro fuori il computer Partita finita Ora si torna a casa E si cena E anche questa settimana è finita Ci vediamo alla prossima